Sì, partecipa, fa qualcosa, sta finita la partita. E se io ce la raggiungi? Lina! Lina, sta buona! Chi? Cosa? No? Angelo! Che cosa? No! Pirlo, pirlo, pirlo! Dici no? Va, va, va! Lo chiamo? Dai chiamolo, va! Vediamo se si sblocca qualcosa! Angelo! Angelo! Ma dove sei andato? Angelo! Oh! Che c'è? Che c'è? Ma dove sei? Vieni, vieni! Vedete la partita con noi, no? Ma non mi sentite la partita che diceva che... Vabbè, però vedete la partita, mamma mia... Siediti, va! Allora, dobbiamo mandare energia nella candela! Mi raccomando! Espirate... Non mi diceva che dovevo guardare la televisione mentre vuoi fare? Espirate! Non spegnete la candela, mammaazzo! Ma non hai detto che dovremmo guardare la televisione mentre lo fanno! Aspetta che, c'è la preparazione! Devi concentrarti! Non capisci niente! e adesso dobbiamo dire il nome del giocatore pirlo tu sei un pirla ancora tre volte di seguito suonai per ventilazione pirlo pirlo oh ma dove fuori ce l'avevamo quasi ragà però dai perché non mi concentrate e non mi concentrate ho capito ho detto pirlo pirlo che stai facendo no ragazzi stanno le interviste ai tifosi adesso no è laura ovviamente amore si io vado a dormire bravo ciao ma quando finisce sta cosa che sta la cosa mezz'oretta mezz'oretta è finita no io vado a dormire ne la faccio ecco bravo vai a dormire forte quello è zomiglia quello guarda il prato come te ciao